buongiorno benvenuti a questa video analisi 8 giugno 2015 video analisi che potete ricevere gratis via email o su canale pubblico telegram dove abbiamo superato i 700 iscritti come fare molto semplice magicamente appare la scritta ricevi gratis la video analisi sopra la mia testa cliccate lì e vi riporta al mio sito sul mio sito trovate davvero tante iniziative la possibilità di ricevere la registrazione del corso di gruppo che c'è stato a fine maggio la parte teorica soprattutto la parte teorica 100 minuti di teorie con le strategie con le candele chinash multi day queste che vedete in questa video analisi intra dei multi dei indici titoli azionari intra dei forex materie prime tanta tanta roba insomma venite sul mio sito potete acquistare le registrazioni sono 100 ore 100 minuti scusate 100 minuti 100 ore no 100 minuti la prima parte teorica e poi un'ora e 24 minuti la seconda parte domande risposte con chi vi ha partecipato in diretta poi c'è anche il servizio fx multi day ai chinash gratuito tutti i giorni quindi se volete la parte teorica con la registrazione del corso di gruppo poi per vedere come funziona la strategia applicata a casi concreti quotidianamente con dei video ogni pomeriggio e lì abbiamo superato gli 800 iscritti e vi ringrazio perché state seguendo davvero con molto entusiasmo questo nuovo progetto unico in italia di formazione daily tutti i giorni non un'ora due ore due giorni corsi sessioni di corso ma tutti i giorni la strategia applicata a casi concreti di vita reale di trading quindi sul mio sito trovate tutte le informazioni se poi volete contattare direttamente me lo potete fare su telegram via email trovate tutti i miei riferimenti anche per telefono se posso rispondere se non sono impegnato magari con la registrazione di questa video analisi una settimana vi state preparando tra una settimana l'evento boom uno dei due almeno quelli attesissimi per giugno il meeting della banca centrale americana con il dollaro che continua a perdere posizioni e il 23 giugno poi il famosissimo oramai meeting referendum scusate della brexit il piccolo lapsus e poi comunque ci sono anche oggi c'è un meeting della banca centrale neozelandese dove non sono attese delle variazioni dovrebbe rimanere tutto fermo la disposizione per quanto riguarda i tassi di interesse quindi tra una settimana conosceremo quello che è la quello che effettivamente a questo punto il mercato non si aspetta più nulla dopo il dato di venerdì scorso i famosi 38 mila dato deludente sull'occupazione americana però attenzione l'analisi Aikinashi lo vedremo oggi approfondirò poi nel pomeriggio col servizio fx Aikinashi multi day come perché tracciare supporti e resistenze con le candele Aikinashi ci sono e quando si presentano insieme l'abbiamo visto recentemente sull'australiano o sulla sterlina diventa in quel caso io lo chiamo uno tsunami un'onda anomala dove però manca quello più importante e di cosa sto parlando comincio a farvi vedere il grafico dollaro yen qui è l'unico dove ancora non si è formata la candela verde Aikinashi l'impostazione resta a ribasso vedete che comunque dopo che c'è stato il movimento al ribasso con la candela rossa del primo giugno suffragata dal fatto che eravamo su una resistenza quindi è diventata resistenza H2A ovvero resistenza confermata da una candela rossa Aikinashi perché parliamo di resistenza da lì c'è stato un movimento al ribasso è evidente che sta come si usa a dire in questi casi sentendo il supporto in area 106 supporto che non è ancora supporto H2A diventerà supporto H2A se anche si forma la candela verde così come è successo qui vedete questa candela verde del 5 maggio 2016 altrimenti l'impostazione è tuttora confermata al ribasso e il cambio il cross contro il dollaro è quello più importante ed è l'unico praticamente elemento mancante invece di una situazione dove faccio vedere cominciamo in ordine alfabetico australiano contro yen candela verde Aikinashi sul supporto in area 78 e 49 vedete lì 78 e 49 quindi potrebbe effettivamente risalire vedremo dopo questo trend ribassista qui l'australiano c'è stato il meeting della banca centrale la banca centrale in questo momento ha le mani legate non può portare avanti la politica espansiva a tagliare i tassi come ha fatto qualche mese fa perché i dati macroeconomici sono positivi per il momento in stand by quindi si possono prendere in considerazione così come dicevo ieri nell'appuntamento col servizio fx multiday Aikinashi che adesso si può anche pensare di speculare al rialzo fino a quando almeno c'è il conforto dei dati macroeconomici australiani quindi l'australiano contro yen nuova direzione potrebbe non è sicuro garanzia di successo al 100% e dalla A di Audi andiamo alla C di CAD contro yen anche qui abbiamo una situazione candela verde Aikinashi sul supporto in area 82 e 34 e qui a manforte a dare manforte a questa situazione c'è anche usd CAD perché comunque dove non è presente il dollaro in questo caso per esempio canadese è yen giappone giappone dovete vedere la situazione delle già dello yen contro il dollaro così come anche il canadese contro usd dollaro yen abbiamo visto è al ribasso quindi non è una buona news per questa impostazione mentre usd CAD abbiamo questa impostazione qui dove CAD questa volta è a destra usd CAD sta venendo giù perché usd che scende a favore del canadese se il canadese lo mettiamo davanti e invece di dollaro mettiamo lo yen effettivamente dall'impostazione del canadese contro il dollaro abbiamo la conferma anche del canadese contro lo yen dove se carica il grafico la piattaforma eccolo lì c'è la candela verde quindi dall'impostazione conferma quello che vediamo sul grafico usd CAD zoppica non vediamo usd yen ma questo è un denominatore comune audi contro yen all'australiano contro il dollaro prima ho fatto vedere la candela verde conferma che siamo in un'impostazione dove l'australiano potrebbe risalire dal CAD ancora con la lettera c restiamo CHF e qui c'è un'impostazione ancora possibilmente rialzista candela verde sul supporto 109 dove oramai vedete è fermo lì da un po di tempo non si schioda da quella situazione se andiamo a vedere quindi il franco svizzero contro il dollaro ovvero usd CHF abbiamo una situazione dove c'è una forza in corso della moneta svizzera vedete come sta venendo giù usd CHF perché CHF è a destra ricordate sempre non confondetevi è facile ma poi una volta entrati nell'ottica del forex vi verranno in maniera spontanea automatica quindi dollaro franco svizzero ci dice che franco svizzero si sta rafforzando quindi rafforzandosi anche potrebbe rafforzarsi anche contro lo yen quindi conferma tutto si sta confermando audi CAD CHF abbiamo visto questa situazione è il nostro caro euro yen che so che molti di voi amano tradare si forma nuovamente la candela verde sul supporto 121.08 andiamo a vedere la situazione dell'euro dollaro probabilmente già la conoscete è al rialzo da oramai diverso tempo quindi conferma anche questa impostazione dell'euro yen gbp è qui qui bisogna paletta stop non stop loss ma attenzione perché sterlina yen è un cross un cambio che si muove in maniera pazzesca fa 500 mille pips come niente altamente volatile si è formato una candela verde già di suo non è proprio simpatica diciamo così non è chiara molto stretta non è bella estesa come magari si vede in questo caso qui o in quest'altro caso qui perché comunque c'è da considerare la incertezza sul referendum brexit quindi qui prendendosi un rischio a rialzo su sterlina yen vedete voi poi il trading anche di questo cioè puntare su quello che il grafico dice e poi vedere come potrà andare ma qui è un'alta lena di emozioni così come dicevo nella video analisi intermarket di oggi stiamo veramente in pre in piena speculazione sondaggi fino a quando non avremo l'esito ufficiale quello vero del sera 23 mi sembra che il 24 mattina hanno l'ufficio ha detto delle votazioni del referendum verranno dati la mattina del 24 i dati l'esito del referendum quindi andiamo a vedere sterlina dollaro perché sterlina yen ci dice che potrebbe rimbalzare allora sterlina dollaro c'è una situazione dove c'è anche la candela verde eccola qui ma uno siamo a ridosso della resistenza due speculazione allo stato puro per quanto riguarda la sterlina in genere è evidente guardate i grafici parlano chiaro già è una situazione simile che abbiamo visto qui con queste candele verdi è andata a testare supporto è tornato giù ovvero se poi vogliamo aggiungere facciamo così per rendere meglio l'idea siamo in una situazione di trading range ovvero il mercato e fermo piatto volatilità così un canale si è creato una sorta di canale tra 1 e 47 area 1 e 47 1 e 44 in questi 300 pips oramai la sterlina contro dollaro si sta muovendo di conseguenza sterlina yen seguirà necessariamente questo trend non pulito diciamo quindi cancelliamo questa linea che per il momento non dice nulla alla fine di tutto questo ragionamento questa verde sterlina yen potrebbe anche magari aspettare che vada a testare c'è già un supporto più in basso un 200 pips due figure più in basso 152 quindi se proprio devo tra virgolette pescare visto tutte le possibilità che offre oggi questo tsunami questa onda anomala a favore contro yen perché sono tutte contro yen quindi curo da governatore della banca centrale giappone sarà contentissimo di vedere questi grafici ovviamente non li vedrà sicuramente non li vede e quindi questa chiusa discorso poi manca uno neozelandese contro yen ma qui già c'è un impostazione a rialzo da diversi giorni oramai sempre che carica il grafico ogni tanto fa questo tipo di scherzi e già qui candela verde 10 maggio quindi qua era già un impostazione al rialzo da diverso tempo manca l'appello come detto il dollaro yen dove la candela anche piuttosto estesa quindi non è che siamo vicini che già oggi si intravedeva un possibile verde e questo un campanello d'allarme per tutte le altre situazioni che abbiamo visto fino ad adesso chiudo con un'altra novità nz di cad candela rossa ai kinashi che va a confermare il quadro us di cad che abbiamo visto però attenzione oggi questa sera c'è il miti della banca centrale non dovrebbe tagliare dovrebbe vedere un rafforzamento del neozelandese che però attenzione non vorrei che ha già scontato perché se andiamo a vedere neozelandese torniamo a vedere neozelandese contro dollaro c'è già una bella spinta c'è stato un bello guardate che belli grafici ai kinashi come sempre puliti chiarissimi con la candela verde del 31 maggio è partito questo rimbalzo a supporto in aria 067 stiamo testando la resistenza 07031 ma non è resistenza h2a quindi questa resistenza io potrei anche cancellarla e qui perché in passato si sono formate delle candele rosse con queste candele rosse era effettivamente una resistenza h2a ovvero resistenza più candela rossa ai kinashi qui semaforo verde trend rialzista vedremo questa sera alle 23 con il miti della banca centrale e lo statement ci darà la banca centrale delle in un orientamento indicazioni per quanto riguarda il futuro quindi nz di cad c'è la rossa che stona però con l'impostazione di nz di a rialzo quindi nz di cad sarà interessante vedere rapporto di forza tra neozelandese contro dollaro e dollaro canadese contro il dollaro americano perché a quel punto diventa un discorso di forza relativa per il resto già vi ho fatto vedere indirettamente praticamente la situazione dell'euro dollaro dove si è creato questo oramai come io chiamo tappo poco sotto 1 e 14 una settimana una settimana quindi in attesa di sapere il miti per avere oramai giusto la conferma che non accadrà nulla sempre che non arrivino nuovi dati o nuovi fattori che sappiamo sono oramai all'ordine del giorno comunque come sempre eventualmente se ci saranno andrò ad analizzare insieme a voi con queste video analisi per oggi è tutto grazie per la cortesa attenzione ed auguro a tutti voi una buona giornata grazie a tutti